eccoci qui allora vi faccio vedere un attimo come funziona il preset che ho fatto ultimamente se dovessero interessarvi vi do lo zip allora ci sono due sezioni una francesco con tre versioni di bianco e nero e una versione a colori e poi su quella a colori si possono applicare tantissime modifiche che si vedono sotto come funziona facciamo che io ad esempio la mia immagine qui a sinistra un'immagine normale così è come è stata scattata adesso io vado applicare innanzitutto il preset france che è il preset standard che ho e vediamo che cosa fa allora abbassa le luci aumenta le ombre non troppo diminuisce leggermente i bianchi e aumenta leggermente i neri qui la curva gli da un accento di di leggermente contrastato però i singoli colori sono trattati separatamente per dare degli aspetti diversi dare quindi delle dominanti diverse vedete e è questo che da un po il mood dell'accento a seguire abbiamo una vividezza data 35 per cento ma allo stesso tempo una saturazione che va indietro del 19 per cento e i singoli colori sono trattati poi per dare questo tipo di risultato quindi un aspetto diciamo abbastanza strong che va bene per la street ma allo stesso tempo un po vintage i verdi nella fattispecie sono stati portati molto avanti infatti se io guardo dall'inizio alla fine vedete che i verdi sono molto più verdi e quella è una cosa che mi piace molto allo stesso tempo ho portato i blu ad essere leggermente sull'azzurrino togliendogli però saturazione perché non voglio cieli sparati quindi vuole delle immagini vivide ma con cieli non troppo sparati i viola sono leggermente alzati così come i ciclamini qua comunque noi adesso vediamo l'esempio di come è stata trattata ma vedete che è molto molto dura per questo sono entrato con l'aggiungi modifiche vedete che se io aggiungo le modifiche cosa succede viene formato una maschera sopra al volto e quindi viene ammorbidita la pelle allo stesso modo viene data una maschera che fa uscire leggermente il soggetto si parla di pochissimo 0 2 e poi allo stesso tempo invece lo sfondo viene messo leggermente in secondo piano quindi sempre con 102 questo significa che sia un un soggetto che leggermente esce verso l'esterno a questo punto si può andare a modificare con l'esposizione più l'esposizione del recupero luci ecco qui il recupero delle ombre oppure lavorare sui vari livelli di in questo caso mi piace quindi la tengo così vediamo la prossima eccoci qua sempre stesso stile andiamo ad applicare prima il preset che ci dà questo aspetto diciamo un po cupo anche un po un po strong ma adesso andiamo applicare le maschere ecco la maschera che arriva eccola qui che non mi sembra per niente male e andiamo a dare magari esposizione luci più e andiamo a diminuirle però di modo che non siano esagerate e la vividezza direi che possiamo tenere un tra un 2 un 3 una cosa del genere se andate a vedere appunto rispetto prima prima dopo va a dargli quel qualcosa in più senza stravolgere completamente quindi non è un filtro che va a cambiare la bilanciamento del bianco ad esempio come tanti filtri fanno e soprattutto applicabile a qualsiasi tipo di immagine ad esempio vediamo questa qui abbiamo questo guerriero che è in ombra se io vado applicare franz già va a tirarlo fuori ovviamente qui siamo un po esagerati quindi potremmo diminuire leggermente potremmo andare con una vividezza leggermente minore eccolo qui e poi aggiungiamo la maschera che gli dà anche qui un aspetto come se fosse illuminato diciamo da un flash in questo caso in questo caso abbiamo un cielo che forse è leggermente troppo recuperato e allora niente paura perché noi andiamo nelle maschere che ci ha creato ci ha creato cielo pelle soggetto eccetera e sul cielo possiamo andare a diminuire leggermente in questo caso quindi abbiamo la foto finita che è questa qua sempre sullo stesso stile andiamo a vedere un altro tipo di immagine qui abbiamo appunto questo controllo luce fatto a lisbona che è molto molto impattante cioè il soggetto è completamente in ombra e la parte esterna è completamente al sole quindi andiamo a prendere il nostro preset e vedete che già è andato a recuperarci la persona ea recuperare anche la parte dietro però non so non facciamo solo questo ma andiamo anche su recupero luci direi e andiamo anche su aggiungi maschere in questo caso vediamo che già ci ha creato un'immagine che è tutta un'altra cosa in questo caso si parla sempre di preset molto pop molto presenti quindi non aspettate diciamo la mini modifica eccetera eccetera però a me piace molto questo stile quindi fate vobbis insomma se vi piace usatelo allora questo qui ad esempio lo scatto originale di Anna Laura andrebbe già bene così come luce diciamo non è male ovviamente certo più si parte da una foto buona e meglio è in questo caso però andiamo sempre ad applicare il mio preset eccolo qui che va ad scurire vedete le tonalità della pelle e va a dare un po di effetto strong sul su tutto il resto voglio la pelle più morbida perché adesso sono andato diciamo a irrigidire leggermente i difetti della pelle quindi vado ad aggiungi maschere tac e direi che ci siamo anche abbastanza vediamo che questo è il dopo e questo era il prima come sempre la questione dei verdi ti dà un bel distacco con l'effetto della pelle e quindi è una bella soluzione qui abbiamo grandissimi la famigliola qui andiamo in questo caso vediamo che è leggermente sovraesposta l'immagine quindi potrei andare a calare l'esposizione intanto andiamo su esposizione meno così c'è la cala di 05 poi andiamo ad applicare il mio preset eccolo qui ovviamente adesso è molto calcata l'immagine andiamo ad aggiungere le maschere e con le maschere aggiunte arriva già ad essere una buona cosa ancora potremmo aumentare anche la vividezza e sull'esposizione forse invece che farla troppo bassa potremmo anche alzarla leggermente così e comunque è una bella foto ricordo prima dopo poi non so andiamo su questa questa è la foto originale se andiamo sempre ad applicare il preset eccolo qui ovviamente ci accentua la pelle in questo caso quindi con le maschere noi andiamo a ripristinare la pelle in maniera soft diciamo e direi che possiamo anche fermarci qui non è che ci sia tanto altro da fare diciamo qui abbiamo la fantastica foto del christian e andiamo a che già giusta diciamo non è che ci sia un problema comunque andiamo ad applicargli il preset qui è andato a bruciargli leggermente la faccia ma andiamo vediamo ad aggiungere maschere e in questo caso possiamo andare sul recupero luci che così abbiamo un immagine un po più pop in questo caso si può vedere la differenza applicando non applicando il preset del cielo che leggermente sfuma verso delle tonalità ciano e non o anche della giacca rispetto al al cielo normale in quel caso bisognerebbe semplicemente andare qui e spostare leggermente in su la barra del blu di modo da avere il cielo ripristinato con lo stesso con lo stesso tonalità e quello che fanno le maschere allora le maschere fanno in questo caso aggiungono una sottoesposizione del cielo una sistemare un po l'incarnato della pelle poi ci sono due maschere che una manda più 0 2 soggetto e l'altra manda meno 0 2 lo sfondo di modo da far uscire un po il soggetto mentre degli altri preset una cosa interessante appunto che si possono comunque mediare quindi se io vado a selezionarne uno posso andare a decidere quanto aggiungerlo qui ad esempio preset iniziale che questo che è molto diciamo forte se io volessi farlo più leggero basta che calo giù e ho un preset molto più più soft ad esempio nei matrimoni posso usare lo stesso preset che mi fa la parte pop però selezionarlo di modo che vada ad essere più leggero e meno impattante meno duro così come fare ad esempio il contrario ovviamente quindi ogni preset può essere bilanciato in maniera diversa poi vabbè ci sono tre preset per il bianco e nero uno normale uno nero forte e uno nero chiaro provateli e no mi farebbe piacere sapere da parte vostra un parere perché ci ho lavorato veramente veramente tanto su questi tipi di preset e mi sembra adesso di aver raggiunto il mood che voglio sulle foto e ho visto tra il resto che funzionano bene anche sulla fuji funzionano bene sulla sony funzionano bene anche ecco l'unica cosa che vi dico soprattutto per fuji e sony cercate di bilanciare prima il bianco cioè facciamo un esempio se io ho fatto lo scatto originale e ho il bilanciamento del bianco i preset non lavorano sul bilanciamento del bianco e nemmeno sull'esposizione se ho un bilanciamento del bianco che la macchina ha scattato di su o così è ovvio che mi terra ha tutti quei colori caldi quindi dovete andare a sistemare prima il bilanciamento del bianco e poi fate tutte le modifiche quindi l'ordine è bilanciamento del bianco applicazione del preset france e applicazione di tutte le modifiche ecco fatemi sapere che cosa ne pensate ciao